Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi faremo delle foto cioè una mia amica viene a casa mia e lei farà le foto a me e io farò le foto a Balto e niente, vi lascio al video Queste sono tutte cose per allestire il set che è questo qui, precisamente e ora spacchettiamo questo che mi è arrivato ieri poi vediamo un po' come allestire Ok, queste sono le lucine a cascata che posiziono sullo sfondo del set Allora stiamo facendo lo shooting e adesso faccio tipo del caffè allungato d'amori con l'acqua che non berrò però sembrerà cioccolata calda quindi top Allora prendiamo un caffè Tadà! Allora Per essere i miei video di YouTube, lo sai? Oddio! Allora 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.